E a SIGEP 2024 non può mancare allo Sandy Molino dalla Giovanna l'incontro con il consulente della ristorazione Giacomo Fini di GP Surius, ciao Giacomo e bentornato Grazie, grazie, un piacevolissimo ritorno, insomma siamo qua per il Meet Massari 2024 che è un po' questo format che si rinnova ogni anno e per il 2024 diventa completamente internazionale quindi insomma ci sarà il Giappone, la Francia, insomma perché il format funziona? insomma te lo spiego in due parole perché vicino alla maestria dell'immenso Massari oggi noi parliamo costantemente di contenuti gestionali e quindi di come un locale deve marginare quali sono gli indici di controllo, come si allinea alle nuove forme di comunicazione quindi quella digitale, l'intelligenza artificiale, questo è un po' il Meet Massari che si rinnova continuamente siamo molto contenti insomma, quindi è veramente un format che funziona e insomma lo portiamo in giro l'anno scorso abbiamo cominciato con Barcellona e quest'anno avremo davvero una spinta molto forte Giacomo, in che modo tu dai consulenza ai ristoratori? Io lo so, ma spieghiamolo a tutti loro Diciamo che noi portiamo i ristoratori all'obiettivo di successo che si sono prefissati nella loro idea tu sai meglio di me che la ristorazione è molto complessa quindi a volte si perdono un po' per strada magari scappano un po' sotto il controllo i costi, le dinamiche interne insomma soprattutto nelle gestioni piccole fanno sì che non sempre si riesca a dare il risultato che si era pensato e quindi noi interveniamo con dei modelli molto molto centrati quindi partiamo proprio dalla riorganizzazione del dietro le quinte fino ad arrivare all'ingegneria del menu e poi anche la formazione del personale soprattutto alla vendita quindi il servizio e all'accoglienza ecco questo è un po' diciamo in pilo nel percorso che facciamo Forniamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale chi è dall'altra parte può contattare te e il tuo staff affinché si possa avere un preventivo, si possa avere maggiori informazioni rispetto al tuo operato e al tuo tipo di consulenza Bene, allora noi l'azienda e il sito è www.gpstudios.it e l'indirizzo è infochiocciola.gpstudios.it In Romagna diciamo sempre che le chiacchiere sono gratis quindi insomma noi per un consiglio ci siamo sempre Grazie Grazie a te Giacomo noi saremo qui ancora una volta tra pochissimo con il maestro Massari e Sabrina Dalla Giovanna che andranno a spiegare da una parte le nuove farine attraverso la voce di Sabrina Dalla Giovanna e con il maestro Iginio Massari che terrà insieme proprio a Giacomo Pini E' il terzo anno che insomma siamo spalla a spalla sul palco Bene, e allora andiamo via perché tra poco si comincia, grazie Grazie a voi, grazie